Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ti prego no no ti prego porco Cazzo da raia! Cristo madonna di Gesù Dio! Cristo Dio non builda un Cristo non builda! Scusatemi Ci è costato 13 euro Non so se 35 persone a questa panda Ma quanta gente c'era dentro Figa sono l'endante di Gesù in quattro Cazzo Piero hai ragione Era anche poi vagamente cancerogena forse no? Ma è buona eh E buongiorno buongiorno a tutti ragazzi Buongiorno Ciao Ciao Benvenuti alla live mattutina dedicata a fortnight Come la va ragazzi? Come la va? Ci siamo anche oggi Va bene 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 Andiamo 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 Ok nice Allora qua si è diradato il traffico raga Qua bene va bene Andiamo a Piacenza Dopo i primi tre incidenti ti abitui Eh cazzo Ma secondo me Quelli vanno fuori di testa per la musica bella aggressiva E secondo me cazzo Vieni dall'Italia Qua lì suoni Mica gli martelli un'ora di sound E' il supermercato raga Non so dove è il supermercato Grazie Ma come sempre Pier Lei è un craslazal Al fless Grazie Grazie Non so dove cazzo sto Non riesco neanche a tirare Il craslazal Signori nono Applausi Cioè figa c'è più gente qua che all'Esse Lunga il giovedì Cazzo Quando mettono il pesce in sconto figa Ho visto vecchiette Prendersi a pugni davanti al banco del pesce Il giovedì pomeriggio all'Esse Lunga Cioè ma tutto bene troie Oh l'ho visto io il branzino No l'ho visto io No è mio A carrellate cazzo A carrellate Dalla corsia dell'olio Passando per la cartoleria Fino ad arrivare al banco del pesce Quando parte la signora che dice Inveciamo i gentili clienti Che da adesso il pesce fresco E' in sconto al 40% al banco E parte questo piccolo terremoto Che sono fondamentalmente le vecchie E le zitelle Che è l'unico pesce che possono prendere Ma scusi il trick non lo fa Frenalo Non hai fatto il trick Mettile due sotto Due sotto? Eh certo Gira il mazzo E metti due sotto Pietro lei è imbarazzante In certe situazioni Eh io non sbusto 151 da quando sei un'ultima volta Vero? Questo qua è un hunter secondo me Questo è hunter Questo è hunter vada Attenzione 110 Geridos Chi? Geridos Tentacruel Porto E' l'ora dello sbusto E' l'ora dello sbusto Cazzo apro Cazzo apro Non trovo una bella sega Non trovo una bella vega Porco il cazzo E porco il cazzo Sbio Poi ci fa casino Quindi questo Lei non sa quello che sta facendo Assolutamente no Non sa nulla raga Intanto Maffo dice Michele Non sappiamo Conosce Maffo Conosce Maffo E' un vostro cliente Ah bello il monkey Deli beard Abbiamo 30 minuti ancora da coprire Quindi lo facciamo Eccolo la Vedi devi fare questo Vedi che ha capito Bella gustosa questa qua raga Sucre Scusatemi Non si può tenere dentro Pronto 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 C'è qualcuno Pronto E' un po' presto E' un po' presto E' un po' presto Funzionare funziona Vediamo se l'inquadratura pure funziona Non è presto più di tanto Non è presto più di tanto Adesso non vuole cambiarmi Porca bestia Mi chiamo Xuder Sostituto Geniale Il medico di base C'è il medico La guardia di finanza Esatto Ok il medico fa la guardia Vabbè Già che sei lì Fa anche 7.30 Una lastra Esatto Demon Slayer Che bello Allè tu da cosa sei vestito? Io sono vestito da chitarrista Di sponso Mamma mia Butterfree Che bello ragazzi E' artwork fotonico Bello bello Tutti fanno E' ragazzi Questo è davvero bellissimo Mi è sempre piaciuto Questo artwork Stupendo Stupendo Il butterfree Piano piano ci avviciniamo Che eco One two Ciao Si 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 Ok proviamo la voce D'alta chitarra Io sono Io sono Io dirò Merda il Charizard Mamma mia Grande Grande Lo toploaderi La pre Boom Faccia lei Le lascio l'onore Siamo a posto raga La giornata l'abbiamo fatta Quindi Bello bello Grande Pietrone Penso se facciamo Lo Pikachu Master Vole già risaroccularti In live Magari Possiamo ancora trovare Comunque La Master Non è ancora uscita Non è un problema Non è un problema Facciamolo Ma si chiama la vernice Non è un problema La capisco A me Con La Radio Tocca venire A Milano Eh una bella sbattina No la batteria Non la cambio Wolf Molto difficile C'è più gente qua Che all'Esse lunga Il giovedì Cazzo Quando mettono il pesce In sconto Figa Ho visto vecchiette Prendersi a pugni Davanti al banco del pesce Il giovedì pomeriggio All'Esse lunga Cioè ma tutto bene Troie Oh l'ho visto io il branzino No l'ho visto io No è mio A carrellate Cazzo A carrellate Dalla corsia dell'olio Passando per la cartoleria Fino ad arrivare Al banco del pesce Quando parte la signora Che dice Inveciamo i gentili Clienti Che da adesso Il pesce fresco È in sconto Al 40% Al banco E parte Questo piccolo terremoto Che sono fondamentalmente Le vecchie E le zitelle Che è l'unico pesce Che possono prendere E quindi trovandolo in sconto A pugni Genova John Suono a Genova Lei non lo sapeva Perché l'ho presa Questo weekend 1 marzo Buongiorno 1 marzo Oggi è il mio compleanno Uè cappe Buon compleanno Ciao bello Come stai? Tanti auguri Cazzo Tanti auguri Merda Vanni va alle gioche in compagnia Brutta storia 1 marzo Certo